Il lutto non si addice a Las Vegas. Se credete che a 24 ore dalla strage più grave nella storia degli Stati Uniti, con 58 morti, più di 500 feriti, se credete che Las Vegas si sia fermata, guardate la scena dietro di me. Questa è Las Vegas alle 11 di sera, ora locale, una città che sempre e comunque deve divertirsi. E quando si arriva qui, anche a 24 ore da questa strage, lo spettacolo è sempre uguale. È la Las Vegas di sempre. Casinò sempre aperti a tutte le ore, alberghi che ai visitatori offrono subito dei pacchetti speciali, concerti, spettacoli, divertimento e soprattutto l'invito ad andare alle slot machine, al tavolo verde, a spendere soldi nella speranza che la Dea Fortuna ci baci. È davvero uno spettacolo surreale, irreale, quello che offre la città mentre tanti stanno piangendo i loro morti, mentre ci sono delle veglie funebri in diversi luoghi della città, momenti di preghiera, di raccoglimento, mentre la polizia ovviamente continua a scavare sul passato incredibile, incomprensibile, misterioso dell'assassino, quel pensionato 64 anni, paddock, che aveva accumulato un vero e proprio arsenale di guerra, più di 20 armi di precisione, armi automatiche e poi anche tanto tanto esplosivo. Mentre infuriano le polemiche sulle armi, in realtà Las Vegas deve continuare a divertirsi. Arrivano aerei pieni di turisti che hanno prenotato da mesi le vacanze già pagate. Arriva gente da tutta l'America e da tutto il mondo che ha sempre comunque questo obiettivo. A Las Vegas si viene per dimenticare tutto, per dimenticare la realtà. Questo è lo spettacolo che vedete dietro di me. Può sembrare sconcertante, ma a Las Vegas la vita va avanti, anche se è una vita finta, crudele e perfino feroce.